ecco il vecchio e luca giocare a scopa alle due di notte vecchio come va vecchio come va oh struz quando stanno vienendo dove c'è 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 la carta è loco è un tipo nervoso di furtello o bovillà di sfoggo a sfoggo tanto fai me ha chai oh 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 è ma base o da la veneta di sfoggo a chi è tolo a grado a chi è tolo a grado a chi è tolo a grado